ciao e benvenuto sul mio canale io sono diego e ho 23 anni ho scelto il garage di diego proprio perché questo qui è il garage di casa mia dove quasi ogni sera sono qui a sistemare i miei melli possiedo un'onda cr125 del 2005 e uno zip sp del 1999 che sto restaurando dunque principalmente in questo canale troverai video di moto e motori principalmente due tempi perché sono quelli che preferisco di più pratico anche motocross quindi più avanti caricherò anche video delle mie giornate in pista e in generale di questo fantastico sport detto ciò non mi resta altro che ringraziarti per la visione e augurarti una buona permanenza sul canale ciao e a presto